Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in pagina o nel canale a seconda di dove starete guardando questo video. Oggi vado a presentarvi appunto un po' più da vicino i nuovi arrivi a marchio Alise. Partiamo subito da un prodotto che avete amato ed apprezzato già in tinta unita, ma ve l'abbiamo voluto proporre anche in tutti questi colori che vedete in anteprima in versione batik, cioè sfumato. Partiamo col presentarvi i colori e ovviamente parlare della composizione del metraggio di questo fantastico filato. Si tratta di un 100% microfibra effetto seta, vedete che è semilucido e vi assicuro che è morbidissimo, setoso, scivoloso sull'uncinetto o nei ferri ed è quindi perfetto per progetti primavera-estate. Questo è il colore bianco-grigio-nero, quindi sfumature lunghe, 1900, è il numero del colore, è adattabilissimo e facilmente abbinabile appunto una volta realizzato un capo con questo bellissimo colore. Poi un altro colore un po' neutro è questo sfumato tono su tono con le tonalità del marrone e del color tortora barra beige, un po' più scuro quindi un po' cammello e questo è il codice colore 1815. Poi abbiamo ancora un verde con vari verdi all'interno, varie sfumature di verde, poi un pizzico di beige ed è il bianco sporco. Questo fantastico colore è il codice 5944. Poi andiamo avanti, ancora un po' di marrone e tortora ma con questo bellissimo verde già da ottanio chiaro e poi all'interno abbiamo anche del verde menta, è fantastica questa colorazione, che è la codice colore 4603. Poi abbiamo ancora un colore fresco, estivo, molto molto luminoso e chiaro anche come tonalità e guardate che bei colori che presenta, verde menta, indaco, poi abbiamo anche un pizzico di violetto, insomma molto bello, colore 1767. Poi andiamo avanti con del marrone beige chiarissimo e rosso acceso all'interno. Vedete che abbiamo anche questa sfumatura, eccola qui, di rosso intenso. Si ripete ovviamente per tutti i gomitoli e per tutto il gomitolo. Ed è la codice colore 4574. Poi abbiamo un bianco grigio rosso bordeaux, fantastico per le amanti di questo abbinamento. E questo è il codice colore 5740. Poi abbiamo ancora un coloratissimo ed allegro color 7074, quindi 7074, che presenta questo arancio acceso del ottaneo chiaro, quindi questo anche possiamo definirlo verdementa scuro, e un pizzico di giallo e ancora del viola. Un abbinamento fantastico. Poi abbiamo ancora un bellissimo colore, color marrone, ecco, poi del celeste chiaro, del turchese e del bluet. Questa sfumatura è la 3243. Ancora una sfumatura, questa volta una multicolor, quindi non sto qui ad elencarvi i colori che potete vedere benissimo ed apprezzare in video. Sono tanti in questo caso, quindi davvero una versione arcobaleno, quindi molto colorata, dello stesso filato. E questa è la codice colore 3242. Poi abbiamo ancora una sfumatura con tutti i colori del fragola, salmone, corallo chiaro, corallo più scuro, giallino, molto molto tenue. E questa delicatissima e particolare, molto primaverile, è la 7106. Poi ultima, ma non per importanza, altrettanto bella, la sfumatura 6790, che presenta appunto del verde chiaro, del celeste chiarissimo, celeste medio, del viola, che si ripetono, guardate che bellezza, per tutto il gomitolo. Questo filato, come dicevo all'inizio, è un 100% microfibra, un gomitolo a 100 grammi per ben 350 metri di filo, quindi un'ottima metratura. E i ferri uncinetto consigliati vanno dal 2,5 al 3,5. Io consiglio un utilizzo di ferri uncinetto 3 mm circa. Andranno benissimo. Quindi questo era il Diva Alise Batik, adesso passiamo alla versione tinta unita. Ecco la versione tinta unita dello stesso fantastico filato, questo è il Diva, appunto, sempre 100% microfibra, sempre 100 grammi, 350 metri, quindi stesso numero di ferri uncinetti, stessa composizione meravigliosa, 100% microfibra, stessa metratura, appunto, è fantastico davvero questo filo, perché lo potete utilizzare anche per i vostri piccoli. Quindi è talmente delicato, setoso, morbido, che andrà bene sia per i grandi che per i piccolini. Infatti, guardate che bella rosa baby che vi proponiamo, questo è uno dei colori disponibili al momento, è il 185. Poi, pochi pezzi ancora rimasti per il colore orchidea scuro, che è il 130. Eccolo qui, bello anche lui. Poi abbiamo un rosa antico fantastico, è meraviglioso, molto fine e delicato, perfetto, appunto, per le amanti dei colori femminili, ma che non siano sgargianti. Questo è tenue, delicato ed elegantissimo, il colore 354. Poi, molto primaverile, questo turchese intenso, eccolo qui, che è il codice colore 25, scusate, 245. Poi abbiamo un delicatissimo beige chiaro, e questo è il codice colore 383. Poi abbiamo un grigio chiarissimo, altrettanto elegante, che possiamo pensare di utilizzare anche per stole, scialli, giacchini da cerimonia, ad esempio. E questo è il codice colore 168. Poi abbiamo un lilla chiarissimo, davvero, davvero delizioso, che è il codice colore 158. Poi un blu scuro, ma non un blu notte, ecco, è un blu denim, più sul blu denim scuro, bellissimo, è il 353, questo codice colore. Poi abbiamo un orchidea chiaro, meraviglioso anche lui, molto luminoso e allegro, che è il codice colore 378. Il classico bianco, invece, che non può mancare assolutamente, che è il codice colore 55. Il classico, anche in questo caso, nero, che è il codice colore 60, quindi 60. Poi abbiamo un giallo verde lime, spettacolare, è una novità di questa primavera, ed è il codice colore 109. Poi ancora un color cammello, delicato ed elegantissimo, per le amanti del colore neutro, che è il codice colore 167. Poi abbiamo il turchese chiaro, è un celestino meraviglioso, acqua quasi, chiarissimo, che è il codice colore 346. In ultimo, ma non per importanza, questo bluette acceso, che è il codice colore 132, 132. E questi, dunque, sono i colori al momento disponibili del fantastico Alise Diva. Sempre a marchio Alise, quest'anno, abbiamo una novità, si tratta delle cakes, tono su tono. Queste che vedete in video, sono le Bella Ombre Batik, sono delle cakes tono su tono, quindi sfumature tenue, che appunto cambiano in maniera molto graduale, dal colore più scuro, che si trova all'esterno delle cakes, fino alla versione più chiara del colore stesso all'interno. E appunto, nello specifico, le Bella sono 100% cotone. Andiamo a vedere anche le caratteristiche, sono morbidissime, 250 grammi ogni cake, per 900 metri di filo. I ferri uncinetto consigliati, sono circa 4 mm, per questo filo meraviglioso. Abbiamo questa variante di colore, con il viola lilla, che è la codice colore, 7429. Poi un coloratissimo verde acido, quindi verde lime, quasi all'esterno, e ovviamente sfuma verso la versione più chiara, dello stesso colore all'interno, ed è la codice colore 7412. Per il colore neutro, abbiamo senz'altro optato per questo marroncino, che diventa beige chiarissimo all'interno, che è la codice colore 7410. Poi rosa fucsia, guardate quanto è bella anche questa, codice colore, andiamo a vedere, eccolo qui, 7405. Ancora una sferzata di colore, con questo giallo sole acceso all'esterno, e giallo paierino all'interno, per la numero 7414. Ultima, ma non per importanza, anche in questo caso, una turchese meravigliosa, che vedo benissimo per la prossima primavera. quindi per realizzare, guardate che bell'esempio, ci dà Alice, anche una blusa a manica corta, spettacolare estiva, quindi primavera-estate. Questa è la 7409. E questi sono i sei colori, al momento disponibili, di Alice Ombre Bella Batik. Sempre per le cakes, abbiamo una novità, anche in questo caso, che si chiama Diva Ombre Batik. La caratteristica è quella delle Bella Batik, quindi abbiamo un tono su tono sfumato, questa volta in tre colori disponibili, però il filato cambia, perché si tratta del Diva, quindi la microfibra che vi ho presentato prima, ma in versione cakes sfumate. Allora, nello specifico questa, con il color viola melanzana all'esterno, e rosa tenue chiarissimo all'interno, e la codice colore 7377. Eccola qui. Poi abbiamo una versione con il turchese scuro all'esterno, e la versione più chiara all'interno, e si tratta della codice colore, andiamo a vedere insieme, 7371. Poi abbiamo una giallosenape, con appunto il colore più scuro, quasi gold all'esterno, e un giallo chiarissimo all'interno, questa è la codice colore 7358. Ogni cake pesa 250 grammi, e misura 875 metri. Abbiamo dunque un numero di ferri uncinetto consigliati, che va dal 3 al 3,5 mm. Parlando di prossima stagione, non possiamo non pensare all'estate, quindi ci viene in aiuto sicuramente una fibra meravigliosa, sottile, leggerissima, freschissima, la fibra più consigliata da indossare per i nostri capi and made d'estate. Si tratta del puro bambù, fibra 100% naturale di bambù, che Alice ci propone in questi colori meravigliosi. abbiamo appunto come caratteristiche, ve lo vado a mostrare subito, un gomitolo da 100 grammi di fibra naturale, ripeto, 100% bambù, quindi un 440 metri di filo per ciascun gomitolo da 100 grammi. Ciò significa che con pochi gomitoli riusciamo davvero a realizzare un capo anche grande, ma che sia leggerissimo, super traspirante, perché è la caratteristica di questo filo, l'essere traspirante, leggero, morbidissimo sulla pelle, indicato ovviamente per grandi e piccini. Il primo colore che vi presento è questo argento silver, quindi questo grigio argento silver, meraviglioso e è il codice colore 5252. Poi abbiamo un color violetto che tende al blu meraviglioso, molto particolare e questo è il colore 303. Poi abbiamo un verde smeraldo chiaro, elegante e anche molto allegro, che è il codice colore 610. Poi abbiamo un giallo sole, anche lui molto molto allegro, molto fresco e questo è il codice colore 216. Un rosso acceso, quindi il classico rosso che non può mancare, che è il colore 56. Un altro classico che è il nero, in questo caso il colore 60. poi un violetto meraviglioso, questo è il colore 65. Poi un rosa antico che tende al color salmone chiaro, molto molto particolare, questo punto di colore, è il 145. E poi un beige chiarissimo, anche lui neutro, ma molto elegante, il colore 67. Questo è il bambù fine di Alice. Un filato sicuramente molto particolare, morbidissimo, è il nuovo Cotton Gold Batik. È un filato misto cotone acrilico soffice, è perfetto per la primavera e le colorazioni sono davvero strepitose. È indicato per bambini e adulti, quindi un filato davvero versatile per tutta la famiglia, le colorazioni sono molto allegre e adesso vado a mostrarvele. Partiamo innanzitutto con la composizione. Come dicevo, sono gomitoloni da 100 grammi per ben 330 metri e appunto la composizione è 55% cotone, 45% acrilico premium. È un filato a sfumature lunghe, come potete notare, è questa sfumatura di rosa, lilla, viola e fucsia, è la codice colore 3302. Poi abbiamo un'altra sfumatura molto colorata ed allegra, che presenta dell'arancio, del giallo, del lilla, del verde, menta davvero particolare. Questa è la sfumatura 3304. Poi abbiamo un'altra sfumatura con del blu e verde acido, quindi sfumature di blu meravigliose. Anche questa è la codice colore 4146. Quarta sfumatura che vado a presentarvi è questa con il viola, bluet e anche del lilla all'interno e del celeste chiarissimo. Questa è la sfumatura 3686. Poi abbiamo questa sfumatura spettacolare anche lei, con del fucsia scuro, arancio scuro, arancio più chiaro e rosa tenue. e questa ha il codice colore 7107. Poi abbiamo del turchese, color tiffany, del violetto e del blu scuro intenso. Questa è il codice colore 4531. Ancora abbiamo un colore, come mi piace definirlo, unicorno, quindi questi colori così delicati e chiarissimi che vanno dal celeste chiarissimo al giallino chiaro chiaro, anche il rosa tenue, davvero pallido e particolare. Questa sfumatura è la codice colore 6785. Poi abbiamo ancora del viola, ma stavolta mescolato al verdone e al color anche, vedete qui, grigio chiarissimo. Questa ha il codice 4149. Poi, penultima sfumatura è questa, con del verde in varie tonalità e poi rosa e ancora fucsia e viola, che è la codice colore 4147. Ultimo, ma non per importanza, anche in questo caso, perché è una sfumatura un po' più unisex, è questa con il celestino verdino, anche qui un pizzico di color tiffany e marroncino, in diverse, ovviamente, sfumature all'interno, che è la codice colore 4603. Quindi, queste erano tutte le novità alise che oggi ho voluto presentarvi, ma vi avverto che sul sito sono stati caricati tantissimi nuovi arrivi, non solo a marchio alise, ve li presenterò anche quelli nei prossimi giorni in video, però vi invito a non perdervi questi e altri filati, ripeto, che sono disponibili adesso che vi faccio la presentazione, perché poi magari la vedete tra un paio di giorni e potrebbero già alcuni colori essere esauriti, perché davvero vi stanno piacendo molto e di questo siamo contenti e vi ringraziamo per il riscontro positivo. Quindi, io vi ringrazio ancora una volta per aver seguito il mio video. Vi ricordo che il nostro sito è merceriaitaliaartisan.com, ma ve lo lascerò anche qui nel video in sovraimpressione. Quindi, ancora grazie per avermi seguita e vi do appuntamento a un prossimo video. Grazie.